Io quasi ho dimenticato che ho giocato calcio, che era tanti anni fa, però devo dire che è una cosa molto piacevole, anche se devo dire che l'ho preso con molta tranquillità, perché dopo tanti anni, se ogni tanto ti chiamano, ti danno questi riconoscimenti, vuoi dire che qualcosa hai fatto, sei rimasto nel ricordo di tutti quelli che oggi fanno qualcosa, più spazio sicuramente a quelli che stanno giocando, che vincono oggi, invece per noi è un giusto riconoscimento, che mi fa molto piacere, poi mi sembra compagnia ottima, perché mi sembra che c'è Rummenighe, c'è Buocchi, c'è quel pazzo di portiere colombiano adesso, che è stato veramente fenomenale.